Sono davvero orgogliosa di presentarvi il nostro nuovo Thermolog Green. Thermolog Green è il software che facilita l'efficienza energetica e la transizione ecologica degli edifici. Thermolog Green è il frutto di tutta la nostra competenza ed esperienza in materia di calcolo energetico e simulazione degli edifici. È un software che unisce una straordinaria semplicità di modellazione non solo di un edificio ma di un quartiere intero ad oltre 20 normative di calcolo differenti combinate insieme per un unico obiettivo la riduzione dei consumi, la riduzione dell'impatto ambientale, l'efficientamento degli edifici. Con Thermolog Green possiamo valutare tante tecnologie di involucro gli isolanti, le pareti ventilate, il tetto giardino e ancora lavorare su tecnologie di impianto efficienti e rinnovabili le pompe di calore geotermiche, il software calcola la superficie di terreno necessaria a seconda della tipologia di serpentina che vogliamo idealmente progettare all'interno dell'edificio o ancora i tempi e l'energia necessaria per ricaricare i veicoli elettrici la copertura fotovoltaica, la distanza tra i pannelli solari termici per non farsi ombra. Thermolog Green espone tutto questo in maniera molto chiara. I risultati sono evidenti e il software ci parla di riduzione delle emissioni di CO2 e di carbon compensation. Questo significa che Thermolog Green, il nostro punto zero, è l'inizio di tutto poi verrà la legge 10, poi verrà tutto il resto ma è concepire l'edificio con l'obiettivo principale che oggi tutti ci chiedono quella della riduzione dell'impatto ambientale di ciò che costruiamo e riqualifichiamo. E allora Thermolog Green è un insieme di ingegneria al servizio di quello che se vogliamo possiamo chiamare progetto architettonico ma è un progetto più che altro energetico che ci aiuti a favorire quella transizione ecologica di cui non solo i nostri edifici ma tutti noi abbiamo tanto bisogno. e allora pensiamo in grande, pensiamo Green. Grazie a tutti.